Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, 2026 una grande occasione per Bardonecchia per riaffermarsi come cula dello snowboard? Sì, certamente è un'occasione per tutto il territorio, sicuramente lo sarà anche per Bardonecchia, se come speriamo questo sistema, un sistema di città metropolitana, può funzionare anche sulla scorta delle belle esperienze trascorse.